Buonasera, Calabria! Tutta come attore nel film su Paganini, il violinista del diavolo. Paganini, tu sei un innovatore. Con David Garrett la mescolanza di elementi classici, pop, rock e ritmo in blues sono lo strumento per raggiungere le giovani generazioni. La chiusura di armonia ed arte festival nel parco archeologico di Roccelletta di Borgia con David Garrett ha aggiunto un suggestivo tocco di classe, un sapore che solo pochi artisti lasciano sul palcoscenico.